Andiamo in bicicletta! Andiamo a prendere il giacchino e il cappello? Senti mamma quando è saggia, non serve il cappello, ce lo portiamo lo stesso. Vieni il giacchino! Va bene mamma, ciao mamma, mettiamo il giacchino, facciamo il video! Sì, c'è la copro sul casco! Ci ha messo anche la delcivo papà! Bello! Ciao! Aspetta, mettiamo il casco prima. Saliamo a bordo! Magni Manopoli! Bravo! Si riparte! Facciamo le scale? No dai, facciamo l'ascensore! A dopo! Bravo! Ho acceso la luce! E' aperto! dentro l'ascensore! Devi girare però! Eh si? Eh si? Così, ti girapapà! Ah! Direzione d'uscita! Si riparte! facciamo le scale c'è l'inselta, tira su i piedini via! vieni! guardare su, andiamo al quarto già andiamo al quarto aca con il suo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.